La realizzazione di modelli architettonici è possibile utilizzare stampanti 3D, ma per la buona riuscita del modello in termini comunicativi e tecnici è importante conoscerne le diverse potenzialità e caratteristiche. In questo video scopriremo il loro funzionamento per scegliere quella più adatta alle nostre esigenze di modellisti. Le stampanti 3D sono attrezzature gestite da computer che, partendo dai geni CAD tridimensionali, sono in grado di realizzare oggetti solidi attraverso la deposizione di diversi tipi di materiali. In questa lezione ci occuperemo solo di alcuni tipi di stampa 3D, i più comuni ed economici per la realizzazione di parti di modelli architettonici. In particolare vi presenteremo la tecnologia di stampa a deposizione di filamento fuso FDM e la stampa stereolitografica SLA che utilizza resine liquida. Tutti i processi di stampa 3D, indipendentemente dalla tecnologia e dai materiali scelti, sono creato per strati sovrapposti. La geometria dei diversi strati viene creata partendo da un CAD tridimensionale che, importato in un software di slicing, viene affettato per piani paralleli di circa un decimo di millimetro. Nel caso della stampa 3D FDM, la geometria di ogni strato è realizzata sciogliendo un filamento termoplastico su un piano mobile attraverso un estrusore, ovvero un piccolo cono di metallo che viene riscaldato elettricamente. Nel caso della stereolitografia SLA, un sottile strato di resina allo stato liquido viene solidificato da un laser su un piano mobile per creare diversi strati del pezzo fino al suo completamento. Queste due tecnologie hanno generalmente tempi di esecuzione simili. La stampa SLA è più definita e la rigatura dovuta ai piani sovrapposti è quasi invisibile, ma il materiale utilizzato è più costoso. Altri metodi di stampa 3D utilizzano laser o colle per solidificare strati di polvere di diversi materiali, anche metallici. Altri ancora estrudono filamenti con particolari caratteristiche tecnologiche e additivi come fibre di carbonio oppure estrudono materiali non in filamento ma malleabili come argilla e simili. Le tecnologie di stampa 3D FDM e SLA, pur essendo molto versatili, hanno un limite nella realizzazione di elementi comparti a sbalzo rispetto al perimetro di base. Costruendo per strati che poggiano sul strato precedente non possono creare elementi sporgenti con angoli maggiori di 45 gradi rispetto al piano di appoggio. Per alcuni elementi di progetto questo limite potrebbe impedirne la realizzazione con queste tecnologie. Immaginate di voler stampare una trave del reticolare i cui elementi superiori non hanno alcun appoggio sugli strati sottostanti. Nel caso di stampanti SLA o FDM a singolo estrusore, questo limite può essere superato introducendo nel modello CAD tridimensionale degli elementi di supporto che permettano di realizzare le parti aeree. Questo tipo di supporti, puntuali nel caso di stampanti a resina liquida, può essere generato in automatico da software di slicing specifici di queste stampanti. Ma comunque tenuto presente che la realizzazione di supporti, oltre ad incrementare i tempi di lavorazione, comporta la necessità di una loro rimozione meccanica che può influire sulla finitura superficiale del pezzo prodotto. Le stampanti 3D a filamento di ultima generazione per ovviare questo limite sono dotati di un doppio estrusore. Possono quindi stendere per ogni strato di stampa due filamenti o dello stesso materiale ma di colore differente oppure di due diversi materiali. Il secondo estrusore permette quindi l'utilizzo di materiali idrosolubili come il PVA per la creazione di supporti che in questo caso sono volumi calcolati automaticamente dal software di slicing. Una volta terminata la stampa il pezzo viene quindi immerso per qualche ora nell'acqua e il materiale di supporto si scioglie completamente lasciando l'oggetto perfettamente libero. Dopo aver analizzato il funzionamento di queste macchine passiamo ora a fare qualche riflessione sul loro utilizzo. Nella maggior parte dei casi con la stampa 3D non vengono realizzati interi modelli ma alcune loro parti. Questo sia per i limiti dimensionali delle comuni stampanti 3D sia per i costi e tempi di realizzazione. Le parti di modello che necessitano di essere realizzate con la stampa 3D sono quelle che presentano geometrie complesse. Alcuni esempi sono le strutture reticolari, elementi a curvature doppie come coperture o scala a chiocciola, architetture alla scala urbana se necessitano della rappresentazione di minuti dettagli architettonici o ancora elementi tecnologici come i giunti. Va sempre tenuto presente che nella maggior parte dei casi la stampa 3D utilizza materiali plastici al massimo di due colori. Questo limite nei materiali e nella finitura risulta spesso poco accettabile per la rappresentazione corretta del progetto architettonico. Un altro elemento da considerare nella stampa FDM è la presenza di legature superficiali sul pezzo prodotto che sono determinate dagli strati di plastica fusa sovrapposti. Per questo motivo possono essere necessari interventi di postproduzione come la levigatura del pezzo o l'applicazione a pennello di resine B componenti. Se si intende dare al pezzo un colore diverso da quello del materiale di stampa è necessario applicare una mano di fondo e tenere conto che la verniciatura può rendere meno visibili eventuali dettagli minuti realizzati a stampa. Vanno oltre considerate con attenzione la componente strutturale degli elementi prodotti, specie se si tratta di elementi piccoli o che dovranno avere anche una resistenza meccanica. Nel caso di elementi fini, come pilastri o strutture reticolari, se vengono posizionati perpendicolari al piano di stampa, questi saranno estremamente fragili e non potranno essere di sezione inferiore a un millimetro e mezzo. Queste parti sono infatti realizzate con piccole gocce di plastica che vengono sovrapposte una sull'altra, rendendo l'elemento fragile poco definito. Come abbiamo detto, la stampa 3D è sicuramente un utile strumento se si dispone del modello tridimensionale dell'elemento da realizzare. La macchina esegue il pezzo senza impegnare il nostro tempo, ma questo processo può essere lungo e può durare anche più giorni consecutivi, senza interruzione. Per questa ragione la stampa va programmata con il giusto anticipo, verificando i tempi di realizzazione e la disponibilità dell'attrezzatura.